Perché dice che sembra un appoleone Ma stiamo facendo un video? Vai! Per Elisa, allora, però adesso ci devo pensare Sprechiamo un mucchio di te Ma quindi è una tua amica, ci stai provando Una dedica d'amore oppure Diciamo è un Un omaggio a cui tu vuoi bene Allora Aspetta un attimo Una cosa meravigliosa adesso Non ti preoccupare, non lo divulgherò No, no, devo scrivere una cosa bella, cazzo Posso scrivere? Ah, puoi anche dirglielo, sono anche senza scrivere Mi viene in mente che Che l'amore non è amare Così puoi dire che lo vedo tutti No, no, mi viene in mente che Ah, no Per Elisa a palazzi ti vuole bene Aspetta Allora Se, allora Ecco qua, allora scrivo una cosa vera Va bene Se sai scegliere Dai non mi mette le difficoltà Gli amici, gli amici Aspetta, puoi fare gli amici Così Così Guarda come te lo vedete Ecco Di sicuro Di sicuro Sarai Sono vicino Circon Andata Dalla Belle Cose Che persone Senti di questo, adesso continua Sembra È troppo Dopo è troppo È troppo Così è troppo Così è troppo Cosa Che persone Che Che sono le uniche però Sono le uniche, lo dico solo a voi Che possono Dopo si creano troppe aspettative Così è troppo Darti La felicità Spero che non sia la cattolica Perché adesso no Dio No Nel senso che Dio non lo sa fare Quello che sanno fare le persone Che ti vogliono fare Eccolo qua Grazie Luca Ciao